La produttività nel settore edile è stata stagnante negli ultimi 40 anni. Alcuni settori come l'automotive sono caratterizzati da un'elevata standardizzazione e modularità, fattori chiave per il miglioramento dell'efficienza. Ma nell'edilizia ogni edificio è unico, giusto? Quando si ha a che fare con diversi sistemi di supporto, in cantiere possono verificarsi dei problemi. Tutto ciò può essere causa di difformità e di un processo di installazione poco efficiente, così come di elevati costi non previsti nel budget e di ritardi nell'andamento dei lavori. I servizi di prefabbricazione ILTI possono aiutarti a risolvere questi problemi. Con i nostri servizi di progettazione DIM ti offriamo una preprogettazione dei tuoi sistemi di supporto, mettendoti a disposizione tre servizi di prefabbricazione. Canali ILTI tagliati su misura a seconda delle tue esigenze da parte di professionisti, utilizzando tecniche all'avanguardia e consegnati sul cantiere pronti per l'assemblaggio. Tutti i componenti dei tuoi sistemi di staffaggio, suddivisi in confezioni speciali, nella giusta quantità, inclusi i binari ILTI tagliati a misura, consegnati sul cantiere pronti per l'assemblaggio. Tutti i tuoi sistemi di supporto impiantistico, trapezzi, mensole e pali, assemblati in base alle tue esigenze, consegnati sul cantiere, completamente pronti per l'installazione. Approfitta dei nostri servizi di prefabbricazione. Potrai beneficiare di un'installazione più rapida e di maggior qualità, oltre a minor rischi di incidenti in cantiere e a una minore quantità di scarti di materiale. Riduci anche le scorte e le esigenze di trasporto.